L'emozione è sempre grande in queste occasioni, quindi abbiamo pensato, volevamo qualcuno della prima squadra che stanno arrivando, purtroppo hanno finito tardi l'allenamento, allora lo faccio io come presidente. Abbiamo pensato di regalare, è una cosa simbolica, la maglia classica numero 9 di Borgonovo con la nuova nostra livrea. Quindi è una cosa simbolica, ma perché vogliamo sempre essere vicini sia Stefano che tutta la famiglia Borgonovo.